interrompiamo le trasmissioni per dare una notizia appena arrivata in redazione firenze si prepara ad ospitare una nuova rassegna stampa con i poeti estemporanei l'evento organizzato dall'associazione l'ottava rima si svolgerà il 10 e il 24 febbraio prossimi dalle 11 e 30 alle 12 e 30 presso la libreria claudiana di firenze in via borgo ogni santi i poeti estemporanei sono artisti che hanno la capacità di comporre poesie pressoché in tempo reale su qualsiasi tema proposto dall'attualità la rassegna stampa organizzata a firenze sarà un'occasione unica per ammirare l'arte di questi performer i poeti annunciati per l'occasione sono stefano fabbroni alessio magnolfi e francesco burroni